Sono molto onorato, come Presidente del Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino, di ospitare la mostra sui 50 anni del fuori che si svolgerà al Museo nel settembre 2021. Sono molto onorato come Presidente dell'Ente, che insieme al Polo del Novecento di Torino ospita questo momento di riflessione, celebrazione di uno dei movimenti di conquista dei diritti civili e di emancipazione più importanti della seconda metà del Novecento europeo. Il fuori sarà sia un movimento che una rivista, pubblicata per dieci anni e noi la racconteremo e la indagheremo in questa esposizione, fino ad arrivare ai risultati, alle conseguenze, alle eredità che dagli anni Ottanta in poi tutti i movimenti per i diritti civili dei gay o delle lesbiche o dei trans o di tutto quello che oggi è la galassia LGBTQI, ha ereditato da questa esperienza unica di attivismo politico e nello stesso tempo di grande riflessione e sviluppo di una cultura libertaria nel nostro Paese.